Io proprio perché vedo che nei titoli degli altri telegiornali la vicenda di Luana Inglaro non è entrata, io riproporrei proprio quel servizio curato dal collega Donatello Vaccarelli che ci dà conto attimo per attimo di questa importante svolta e con questo vi saluto. Un uomo sente il bisogno impellente di parlare, il dovere di esporsi, l'obbligo di adoperarsi perché Luana non muoia, non sia fatta morire. Non è un uomo qualsiasi, è un noto neurologo, dirige l'istituto Sant'Anna di Crotone, casa di cura ad alta specialità riabilitativa e soprattutto Luana è stata una sua paziente. Alla luce degli ultimi sviluppi il professor Giuliano Dolce è convinto di non poter tacere e affida la sua testimonianza al quotidiano avvenire che oggi la pubblica. Ecco le sue parole. Noi medici siamo costretti ad ascoltare le diverse opinioni di persone che parlano senza alcun fondamento scientifico. Io ho visitato a gennaio scorso Luana Inglaro con il consenso del padre. Luana ingoia e ha sempre ingoiato la saliva e dalla anamnesi è risultato che nei primi anni veniva spesso alimentata per bocca dalla madre, anche se la pratica richiedeva tempo. E' questo il cuore dell'intervento del professor Dolce. Luana, a differenza di altre persone in stato vegetativo, riesce a deglutire non solo ma anche il riflesso della tosse, un particolare decisivo per poterla alimentare per bocca. Ecco perché prima di sospendere la nutrizione artificiale è assolutamente necessario valutare bene le residue e capacità funzionali della deglutizione con un particolare esame radiologico. Elementi questi fondamentali ignorati dalla Corte. La sentenza del Tribunale di Milano autorizza la sospensione delle terapie compresa l'idratazione e la nutrizione artificiale e non certo quella naturale. Ove quindi si staccasse il sondino e non si desse per bocca, Luana, acqua e cibo, spiega il professor Dolce, si configurerebbe reato di omicidio, aggravato dalla tortura di un incapace. E se per eliminare le sofferenze provocate dalla fame e dalla sete si somministrasse una forte sedazione prolungata, altro non sarebbe che un'eutanasia. Sono convinto che gli stessi giudici, una volta adeguatamente informati, condannerebbero quelle persone pronte oggi a dare esecuzione alla sentenza. Così si conclude la testimonianza pubblica del professor Dolce, ma non il suo impegno per Luana. Ha già scritto infatti una lettera al direttore sanitario della clinica città di Udine per illustrargli questi argomenti. E se qualcuno, nonostante tutto, pensasse di mettere in atto il decreto, annuncia che si rivolgerebbe direttamente alla procura.